Non delude il programma della 26esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, curato da sempre dall'Associazione Culturale Teramo Nostra e presentato dal Presidente Piero Chiarini. Serata clou della manifestazione, sabato 9 ottobre, con la gran cerimonia di consegna degli esposimetri d'oro al Teatro Comunale di Teramo. La madrina della manifestazione sarà Gaia De Laurentiis. Tra gli ospiti d'onore, la signora Adriana Chiesa di Palma, che ritirerà l'esposimetro d'oro alla memoria assegnato a Carlo di Palma. Il sabato alle 17 c'è la gran cerimonia di premiazione con, presenterà Antonella Salvucci, con Stefano Maschi, il Presidente della giuria. In più ci saranno i vari ospiti, Massimo Popolizio, Ninetto Davoli, Cinzia Leone, Gaia De Laurentiis. All'interno del premio di Venanzo ci sarà spazio per mostre fotografiche d'arte, come quella di Gianni Tarli, che sarà allestita nel sottopassaggio di Piazza Garibaldi, presentazioni di libri legati al mondo del cinema e delle fiction tv, e poi le serate dedicate alla musica. Il 7 ottobre, sul palco del Comunale, salirà l'artista Stefano De Angelis, che proporrà un concerto tributo al mondo del cinema. Tornerò con piacere nel teatro della mia città per un concerto, diciamo un cineconcerto, nel quale mostrerò delle sequenze più iconiche, secondo me, del cinema, e sotto con un collettivo di artisti teramani musicheremo queste sequenze. Per me è importantissimo suonare per il premio di Venanzo, sono stato premiato alcuni anni fa, tornare è una gran cosa per me, perché stimo il maestro di Venanzo e l'immagine residua di lui nella collettività teramana, e niente, non vedo l'ora di condividere con la mia città di nuovo un po' di musica. Venerdì 8 ottobre, si terrà poi un concerto dedicato a Marco Pannella, Ivan Graziani e Gianni Di Venanzo, a cura di Sabatino Matteucci, la guest star Sara Filippo Graziani.